Stefano De Martino all'isola, arriva un segnale da parte di Belen Isola dei famosi, Belen Rodriguez sta guardando Stefano De Martino? L'indizio sui social. La nuova edizione dell'Isola dei famosi quest'anno ha aperto le porte ad un nuovo inviato, Stefano De Martino. Il ballerino di Amici stasera ha debuttato in prima serata su Canale 5, dividendo molto l'opinione pubblica. Da casa infatti molti quelli che lo hanno apprezzato anche se, ad onor del vero, altrettanto numerosi sono stati quelli che ironicamente non hanno perso occasione per criticarlo. La verità è che, per quanto possa essere importante il debutto, forse è ancora troppo presto per tirare le somme. . Adesso però quello che tutti vogliono sapere è un'altra cosa, ma Belen starà guardando la trasmissione da casa? Qual è la sua opinione al riguardo?. . Belen sta guardando Stefano De Martino all'Isola dei famosi? Il segnale. Se la Rodriguez si sia o meno sintonizzata su Canale 5 stasera non cè dato modo saperlo con certezza. . Alcuni segnali, tuttavia, sembrerebbero confermare questa ipotesi. Prima di tutto, il fatto che Stefano De Martino abbia salutato Santiago durante la diretta fa pensare immediatamente ad una cosa, probabilmente il ballerino era sicuro che il figlio lo avrebbe guardato da casa. . La conferma che anche Belen lo stava facendo, però, è arrivata direttamente sui social da parti della stessa showgirl. . Sotto una foto della Cipriani condivisa su Instagram da Rudy Zerbi, infatti, la Rodriguez ha di fatto commentato l'immagine facendo intuire, nello specifico, di essere a conoscenza di quello che stava succedendo durante la diretta. . Isola dei famosi, cosa è successo a Francesca Cipriani?. . A far ridere di gusto Belen Rodriguez è stata probabilmente la frase scritta da Rudy Zerbi sotto l'immagine di Francesca Cipriani. . L'attacco di panico dell'ex pupa bionda infatti, anche se ha molto spaventato Alessia Marcuzzi, in realtà ha molto divertito il pubblico da casa, compresa l'ex moglie di Stefano De Martino. . Ufficialmente però l'Argentina non si è ancora espressa al riguardo, forse perché non vuole rubare Ascena all'ex marito, restando questa volta lontano dai riflettori. .